Pomeriggio 5, ospite in studio Biagio Danelli. Rivelazioni che scottano dopo l'esperienza conclusa nel reality show di Alfonso Signorini. L'ex Geffino ha rilasciato dichiarazioni decisamente interessanti nello studio televisivo di Barbara D'Urso Ovviamente i riflettori non potevano che accendersi su Miriana Trevisan. Ecco cosa ha detto Biagio Danelli a riguardo Una storia d'amore nata durante l'esperienza trascorsa in casa cinecittà quella tra Biagio Danelli e Miriana Trevisan A un passo dalla vittoria l'ex volto di nonne è Lara e fin quando il verdetto definitivo non l'ha vista costretta ad abbandonare il GF e riabbracciare il figlio che ha aspettato la mamma lontana da mesi accompagnato dall'ex marito Una sorpresa splendida che ha dunque saputo rimediare alla delusione di un podio perso per sempre E sono stati molti ad attendere anche il momento in cui Miriana e Biagio si sarebbero incontrati dopo tanta attesa E poi? Le parole dell'ex Jeffino hanno rivelato nello studio di pomeriggio 5 alcuni dettagli scioccanti Ero nel container chiedendole se servisse qualsiasi cosa. Lei ha avuto un problema con il pin del cellulare, non si ricordava il pin E mi ha detto lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamò. Questa cosa mi ha un po' stranito Io avevo capito che perché era appena uscita dalla casa, le valigie, il pin e tutto quanto Tanto di cappello. Biagio Danelli, al GF VIP il gesto top per Miriana. Anche se in pochi se ne sono accorti e ancora, io ho detto se ti serve qualsiasi cosa io sono qua in hotel vicino Mi ha detto ok, ti chiamerò. Non ho ricevuto chiamate. Mi auguro stia col figlio Punto queste le parole di Biagio Danelli. Il motivo del 2 di picche? Ancora tutto tace